numero 5 set di due federe quadrate da arredo nel colore grigio misurano 45 cm per 45 ma sono disponibili anche in altre misure e colori realizzate in misto poliestere e cotone la chiusura lampo è nascosta questa federa è molto elegante ideale per divani e letti in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 4 set di quattro federe con motivi geometrici astratti realizzate in lino misurano 45 cm per 45 sono disponibili anche in altre fantasie ottimo rivestimento anche per cuscini da esterno il tessuto resiste al sole e al vento queste federe si abbinano a una varietà di colori e di stili il tessuto non contiene sostanze chimiche nocive design con cerniera nascosta in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 set di quattro federe per rivestire cuscini da 45 cm per 45 la federa del cuscino è realizzata in materiale di lino resistente a una chiusura con cerniera invisibile il tessuto ha motivi a foglia verde e oro colori eleganti e vivaci che daranno uno stile vivace contemporaneo alla tua casa le federe sono lavabili in lavatrice a basse temperature ottimo articolo trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 set di due federe per cuscino da 45 cm per 45 non include i cuscini le federe sono disponibili anche in altre misure e colori realizzate in ciniglia sono resistenti ideali per essere collocate su divano letto sedie giardino creano un'atmosfera calda nella tua casa lavabili in lavatrice a basse temperature puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 set di due federe per cuscini da 45 cm per 45 non include l'imbottitura dei cuscini questi copricuscini sono realizzati in velluto liscio con linee tridimensionali sulla superficie sono morbidi al tatto sono eleganti e possono essere utilizzati in diversi luoghi della casa salotto camera da letto ufficio locali si consiglia il lavaggio a mano e un'asciugatura naturale ottimo articolo disponibili in altre misure e colori se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione iscriviti al www.mesmerism.info.it 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 Grazie a tutti